Si insedia domani, 10 novembre, l'Osservatorio Media e Minori del Coracom Calabria. L'insediamento avrà luogo nell'Aula Commissioni Acri del Consiglio Regionale della Calabria, Palazzo Campanella. L'Osservatorio Regionale Media e Minori ha, tra le sue finalità, la diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie e dei moderni mezzi di comunicazione digitale, con una particolare attenzione ai minori, la promozione e la realizzazione di iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo, nonché di tutela della reputazione e della identità digitale sul web. Nel contesto di queste sue finalità istitutive, l'Osservatorio darà inoltre attuazione anche gli indirizzi e i piani di azione definiti in ambito europeo, nazionale e regionale in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale, di applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie alla base del metaverso che coinvolgono sia i media tradizionali che i nuovi media. Con questa ulteriore iniziativa si consolida l'attività del Coracom Calabria, che negli ultimi tempi sta dando prova di particolare sensibilità rispetto ad alcuni delicati temi di particolare interesse sociale.